Marina cos'è successo? Non era la vera Italia questa? Cos'è successo? Diciamo che a pallavolo vince chi gioca meglio, noi oggi non abbiamo giocato bene e basta questo è stato. Abbiamo avuto tante sbavature. Ci sono stati alcuni momenti in cui ritrovavamo la luce, però era sempre troppo tardi, sempre troppo verso la fine e niente, diciamo che durante la metà del set, di tutti i set abbiamo avuto dei cali, abbiamo spento un po' la luce e è andata così, ovviamente non siamo contenti, però speriamo di, insomma, rediverci in futuro.